Isola Prossima Isola Prossima è centrato su tre parole chiave, arte, ambiente e futuro. La nostra società ha ribadito in modo peculiare quanto già conosciuto da secoli. Nessun essere umano è isola, ma vive e trova pieno sviluppo nel contesto relazionale condiviso. La mostra vuol far convivere diverse generazioni di artisti, quindi diverse visioni e approcci. Isola Prossima presenterà una realtà composita, un pluriverso in cui gli artisti coinvolti porteranno i propri mondi, le proprie riflessioni e indagini, la propria visione. Scultura, installazioni, pittura e video andranno a comporre una geografia immaginativa in cui le opere, con il potere estetico ed estatico che solo l'arte possiede, saranno parti essenziali di un viaggio esperienziale sull'isola, svelando e celando, sorprendendo e confondendo, presentando in forme nuove ciò che sembra noto e usando forme note per far emergere l'invisibile. Grazie a tutti!